Il sindacato Cobas ha organizzato un'iniziativa presso la propria sede cittadina nel comune capoluogo per l'abolizione dell'ergassolo e del 41 bis. Dal 20 ottobre l'anarchico Alfredo Cospito, detenuto appunto in regime di 41 bis, ha rinunciato ad alimentarsi utilizzando il suo corpo come unica arma possibile per protestare contro la detenzione speciale a cui è sottoposto nel carcere di Sassari e contro l'istituto dell'ergassolo stativo. Il movimento che si è creato in Italia sulla questione di Alfredo Cospito è una questione importante, è una questione di principio che va a tagliare direttamente sui problemi come il carcere, la natura del carcere e di che cosa può essere il carcere come strumento di rieducazione. Noi sappiamo che il 41 bis, il gas e lo stativo nasce come emergenza, ma l'emergenza dura poco e quindi Alfredo Cospito, che non può essere certamente chi decide che Alfredo Cospito è pericoloso. C'è una terminologia che può essere anche abbastanza abusata e quindi proviamo a pensare ad un evolversi di una situazione difficile in Italia e quindi di movimenti che ti mettono in galera e qualcuno decide che sei pericoloso. Ha con sé delle questioni di principio che sono veramente importanti, quindi non è più la questione di Alfredo Cospito, ma è la questione della giustizia, delle carceri e di come un paese civile democratico dovrebbe costruire delle carceri che dovrebbe pensare alla rieducazione e al reinserimento. Così non lo è. Tiene 50.000 persone chiuse in celle di due metri per due e basta, ha risolto il problema. Così non è. Al di là del caso specifico, la vostra è una battaglia più in generale. Secondo lei quale potrebbe essere eventualmente una soluzione per riformare quello che è il sistema anche della detenzione? Il 41 bis è anticostituzionale, lo dicono in tanti. Il Consiglio Superiore della Magistratura lo aveva deliberato per un periodo molto breve. Cioè far uscire Alfredo dal 41 bis significa riconoscere che il 41 bis non è più valido, perché se fai uscire Alfredo devi far uscire tutti gli altri. Ma è così. È chiaro che se nel carcere poi ognuno fa i fatti suoi, è una responsabilità dello Stato. Cioè io consegno questa persona allo Stato, la prendo in consegna e ne ho la responsabilità. Certamente non può morire di pena una persona. Questo è l'aspetto simbolico della battaglia che abbiamo intrapreso per Alfredo, ma di carattere generale. La giustizia non può essere per chi ha... forse è una battuta cattiva, per chi ha i soldi e per chi non ce li ha. Però purtroppo è così. È una giustizia di classe, ma soprattutto mi preoccupa che ad Alfredo sia stato deciso di essere pericoloso. Chi lo ha deciso e come lo ha deciso.